Ecco le immagini dell'ultima fase dell'intervento di pulizia della piazza scandaliato a seguito dell'utilizzo durante i giorni dell'Azzurro Fest. Una vicenda, quella dello stato della piazza, finita sotto i riflettori della Commissione Igiene e Sanità, che è intervenuta nell'ambito di una delle diverse polemiche che hanno riguardato l'organizzazione della manifestazione, manifestazione su cui ieri il direttore artistico Antonio Di Marca ha replicato duramente in merito alle critiche subite, anche a quelle relative agli stessi accertamenti, che sono comunque generici e non riguardano solo l'Azzurro Fest, richiesti dalla Commissione Bilancio sulla concessione del suolo pubblico da parte dell'amministrazione comunale, richiesta firmata dal consigliere Filippo Bellanca che oggi abbiamo intervistato. Consigliere Bellanca, cominciamo da una prima riflessione. Antonio Di Marca, a nome dell'organizzazione dell'Azzurro Fest, dice che per eventi come il mio il suolo pubblico non si dovrebbe proprio pagare, altro che abbattimento del 90%, comincio intanto chiedendole una replica su questo. Ma guardi, intanto faccio una premessa, che benvengano uno, dieci, cento Azzurro Fest, perché qualunque iniziativa si fa in una città che aspira ad essere a vocazione turistica è sempre un'iniziativa importante che va allodata. Cosa diversa è poi la fattispecie regolamentare sul suolo pubblico? Tant'è vero che proprio ieri ho fatto una nota dove chiedevo al Presidente della Commissione di convocare una Commissione proprio per capire un attimino le vicende suolo pubblico, ma non legate ad Azzurro Fest. Tant'è vero che nella nota non si parlava di Azzurro Fest, ma si parla di suolo pubblico in generale, delle iniziative estive, mi riferisco anche ai locali e a tutta una serie di polemiche che tutti sappiamo che in questi giorni ci sono e ci sono state e ci saranno. Poi il confronto con il Cuscusi Fest che ho sentito nell'intervista. Il Cuscusi Fest a San Vito Lo Capo non si paga il solo pubblico. Vabbè, ci mancherebbe altro. Una iniziativa che si fa da 19 anni, che fino allo scorso anno hanno venduto circa 55 mila ticket per la vendita del Cuscus, circa 250 mila visitatori dell'iniziativa Cuscusi Fest. Centinaia di pullman che arrivano ovviamente da tutte le parti della Sicilia, ricordiamo anche Sciacca, ne partono mediamente circa una decina, quindi non mi pare che con questa iniziativa ci sono stati pullman o visitatori extra a quelli presenti già in città. Considerando anche il fatto che settembre è un periodo totalmente fuori la parte estiva, c'è la parte centrale, la parte quello che è agosto, quindi diciamo che quello è uno sforzo incredibile e che benvenga anche l'abbattimento totale del suolo pubblico quando ci sono iniziative di questo tipo. Io darei pure a disposizione una mia area privata a un'iniziativa del genere che porta tutti questi numeri. Quindi bisogna cercare di capire e mettere mani seriamente a questo regolamento per capire un attimino come si è svolto tutta questa vicenda, ma non ripeto, non solo a Zurofesti perché qua non c'è, guardi ho visto l'intervista, c'era molta, non lo so, molta arroganza nell'esprimerse, qua non c'è una guerra contro qualcuno, non esiste. Certo è che poi se il direttore artistico della Prologo dice le stesse identiche cose che dice l'assessore Monte su Facebook, poi questo non è un problema mio, voglio dire, è inutile che vengono avvicinate le due iniziative, se poi nell'intervista vengono dette le stesse cose, questo non è certamente appunto come ha detto un problema mio. Bisogna approfondire questo argomento, bisogna capire e migliorare, perché bisogna anche ammettere gli errori, non bisogna sempre dire tutto è andato bene, tutto è andato benissimo, è un'iniziativa importante, che va valorizzata, è un'iniziativa che va potenziata, ma certamente non si può aspettare una settimana in 4-5 step per la pulizia della piazza, perché non esiste da nessuna parte 5 step per pulire una piazza, come non esiste che il palco è rimasto montato per altri 5 giorni là e mi dicevano che è stato smontato direttamente, purtroppo dai giovani della Prologo direttamente, quindi ci sono delle anomalie che vanno migliorate, che vanno perfezionate, vanno valorizzate, perché ritengo che Sciacca ha bisogno anche di un'iniziativa permanente, come parlando di Cuscus e Feste è arrivata già la 19esima edizione, vanno istituzionalizzate come iniziative, ma vanno migliorate e vanno accettate anche le critiche, perché se no se uno non accetta le critiche e pensa di sapere la verità e avere tutto in tasca, penso che non sia un ragionamento serio. Ma è anche un po' vero che tutte le iniziative della Prologo politicamente finiscono sotto la lente di ingrandimento? Guardi, non mi pare che noi abbiamo fatto tutta questa grande analisi sulle iniziative della Prologo, noi svolgiamo il ruolo, il ruolo espettivo di consiglieri comunali e di opposizione, lo facciamo con tante iniziative, anche quelle della Prologo, ci mancherebbe altro, perché la Prologo non dovremmo fare le altre iniziative e le facciamo, per esempio io ho chiesto notizie sullo sbigliettamento di alcuni eventi come Fiorella Mannoia, non mi pare che Fiorella Mannoia sia stato organizzato dalla Prologo, quindi bisogna verificare un attimino le situazioni ed evitare di fare ovviamente la caccia alle streghe, perché non c'è nessuno che ce l'ha con nessuno, noi svolgiamo il ruolo nostro, proprio, che ci è stato fidato dai cittadini, che è quello di opposizione e dobbiamo verificare quali sono gli atti amministrativi che vengono portati avanti da questa giunta, piaccia o non piaccia, a me dispiace che risponde alla Prologo, perché noi svolgiamo un ruolo politico e ci aspettiamo la risposta ovviamente dalla politica, se la Prologo fa politica non lo so, però di corrispondere ai politici un direttore artistico non credo che sia una cosa molto adeguata. Grazie a tutti.